Sono Federico Mai. Padre Cacciapuoti mi aspetta. L'unica speranza è che Benedetta confesse il patto con Satana. Ma Benedetta non confessa. Domani c'è la prova del fuoco. Com'è bello. Dovete solo dire. In nomine patris et fili et spiritus santi. Amen. Federico Mai. Da otto anni mio marito è scomparso. Alcuni dicono di averlo visto sempre di notte. Perciò lo chiamano il vampiro. Tu che frequenti il mondo dei vivi, dammi un polso della situazione. Vogliono tutti la fattura. Anche i contadini vogliono la fattura. Fermare il tempo è impossibile. Un vampiro. È un vivo o un morto? Allora la bruciarete. Cosa ti importa se la bruciamo? Ho paura della sua vendetta. Avvicinati Benedetta. Ascoltare il tempo è un'escritto. Ho paura della sua vittura. Grazie a tutti.